Amore, ti sto squillando il cellulare! Chi è? È tua madre, o che ti rispondo? No, no, tranquilla! Ehi, no! No, no, no! Ehi, baby, quando ci rivecchiamo vuoi fare di nuovo l'amore insieme? No, non ti devo rispondere! Non ti devo! Mi hai tradita? Dai, andiamo! Hai capito male! Ok, fare l'amore? Ma fare l'amore è una cosa che si dice... Fare l'amore con tua mamma! L'amore con mia mamma... No, no! Non faccio l'amore con mia madre! No, fare l'amore nel senso tipo con un amico... Fuck!